Settore metalmeccanico in sciopero lunedì con anche un presidio al di sotto della prefettura di Teramo. Esattamente, ricordiamo che oggi nel frattempo si sta svolgendo lo sciopero nel nord Italia, per il centro sud è lunedì 10 di luglio, sciopero unitario quindi indetto dalle sile nazionali del settore metalmeccanico FIM, FIOM e WILM, noi per la provincia di Teramo lunedì 10 alle ore 11 saremo sotto la prefettura per portare all'attenzione delle istituzioni e dell'esecutivo, se vogliamo territoriale, nazionale anche, però quelle che sono le vertenze inconcluse del nostro territorio ma quelle che sono anche le attuali preoccupazioni e difficoltà di tutto un settore che attualmente occupa in provincia di Teramo circa 9.000 addetti, 8.500 e che rischia in un modo o in un altro con l'avvio della transizione che credo sia essenziale sotto gli occhi di tutti di lasciare a casa circa il 20% degli attuali addetti. Dal 2019 ad oggi, se pensiamo alle vertenze irrisolte di tutta la Val Vibrata, di tutte le aziende che sono intorno alla nostra provincia, che sono dentro la nostra provincia, abbiamo perso circa 1.000 addetti solo nel settore metalmeccanico, per cui è evidente che riteniamo che bisogna subito fare qualcosa. Stiamo rischiando veramente di perdere un pezzo di industria metalmeccanica fortemente ancorato a questa nazione e fortemente produttivo perché il prodotto interno lordo che fanno i metalmeccanici è quello più alto. In particolar modo questo sciopero nazionale, ovviamente anche per altre vertenze, ma noi riteniamo che sia specifico farlo per la Valle del Tubo. Per questo saremo sotto il prefetto il 10 luglio, un picchetto dall'euro 11, per riaccendere il riflettore sulla Valle del Tubo. Rischiamo veramente di perdere un pezzo importantissimo della provincia di Termo e se la politica non si sveglia, nel 2030 inizierà la transizione, quindi nel 2030 cominceremo a contare veramente i morti e i feriti.